Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui continuiamo la nostra panoramica su come è possibile costruire grafi per andare a facilitare la rappresentazione di alcune specifiche relazioni. Abbiamo visto come possiamo andare a fare i confronti e i ranking tra le categorie, tra livelli all'interno di una stessa categoria, come possiamo andare a fare delle, mostrare delle deviazioni rispetto a dei riferimenti, in particolare andare a valutare le deviazioni di tipo pre e post. A questo punto vediamo come possiamo andare a rappresentare quelle che sono le proporzioni parte tutto. In generale qui stiamo parlando di andare a descrivere quella che è la frequenza di diversi livelli, di diversi valori all'interno di una stessa categoria, andando a sostanzialmente riportarli come parte di un tutto. Quindi se andiamo a considerare tutti il numero di possibili occorrenze dei valori andiamo a rapportare, andiamo a riportare quella che è la frequenza. Attenzione quando facciamo questa operazione a utilizzare tutti i valori che facciano parte della stessa categoria, quindi a non mischiare parti di diversi tutto. Quindi noi andiamo a mettere tutte le parti di un dato tutto. Noi possiamo utilizzare queste tecniche non soltanto per rappresentare la frequenza dei diversi valori all'interno di una categoria, ma anche per andare a confrontare le frequenze di sostanzialmente stessi valori in gruppi, categorie o misure diverse. Che cosa possiamo utilizzare? Allora in generale andando a rappresentare un rapporto parte tutto, tendenzialmente quello che facciamo è andare a utilizzare delle percentuali che sono facilmente comprensibili dalla maggioranza degli osservatori dei nostri grafici. Possiamo utilizzare dei grafi a barre impilati, quindi uno sopra l'altro, anche se questo rende difficile andare a vedere i valori intermedi, delle aree sovrapposte, dei tree map, dei grid plot, dei diagrammi a torta o dei diagrammi marimecco. Vediamo un po' più nel dettaglio che cosa sono queste diverse tipologie di diagrammi e come possiamo costruirli e quali sono i vantaggi e svantaggi. Un diagramma che utilizza le barre sovrapposte o affiancate, se lo vediamo in orizzontale, è questo dove andiamo a rappresentare un caso di studio in cui vengono rappresentate le energie, le fonti di energia, fossili per il 78%, rinnovabili per il 19% e nucleare per il 2,5%. Allora, noi abbiamo comunque la barra, abbiamo le altezze delle barre che possiamo andare a confrontare, essendo impilate l'una sopra l'altra non è immediato andare a confrontare una barra con l'altra. Quello che possiamo fare è andare a leggere i valori rispetto a un asse. Il problema è che i valori intermedi, quindi le barre che rappresentano la frequenza dei valori che non sono il primo o l'ultimo, tendenzialmente hanno una base che non è la stessa delle altre, quindi è più difficile andare a valutare l'altezza. Per questo motivo solitamente si riportano anche le percentuali. Attenzione quando andate a costruire diagrammi di questo tipo con dei fogli elettronici perché, ad esempio, se voi andate a prendere Microsoft Excel e andate a mettere due valori sì e no con le percentuali 99 e 1%, quello che viene prodotto in maniera automatica, se non date nessuna indicazione, è un diagramma che parte sostanzialmente dal 98%. Ovviamente a questo punto ci ritroviamo un life factor enorme perché la percentuale di sì risulta più bassa della percentuale di no, quando in realtà il rapporto è 99 a 1. Possiamo utilizzare i diagrammi a barre impilate, staked, per andare a confrontare diverse frequenze di diversi categorie, di stessi valori in diverse categorie, per cui ad esempio in questo caso noi riportiamo diversi misure, in questo caso misure in diversi trimestri di un anno e le vendite. Ovviamente qui abbiamo totali di vendite che variano complessivamente nei 4 trimestri, quindi è molto difficile andare a confrontare i valori. In generale è difficile andare a vedere il valore di un pezzo della barra intermedio e soprattutto quando il totale è diverso è difficile andare a fare i confronti. Per questo motivo, solitamente, come dicevo prima, la raccomandazione è utilizzare delle percentuali. È chiaro che qui non abbiamo il valore assoluto, ma se ci interessa anche il valore assoluto, tendenzialmente conviene rappresentarlo in un grafico separato e qui andare a rappresentare esclusivamente le percentuali. In questo modo io posso confrontare dei valori vicini in termini percentuali e non dovendo fare il doppio confronto. Un altro modo di rappresentare i rapporti parte tutto è andare a utilizzare quella che è l'area. È ovvio che se io vi propongo un diagramma di questo tipo senza andare a mettere i valori è estremamente difficile intuire quelle che sono le proporzioni. Probabilmente le ricordate dal diagramma precedente a barre, però è estremamente complesso. Per cui, se vado a mettere i valori, a questo punto è un po' più banale. Qui questo è il 80%, grosso modo questa barra è il 20%, quindi un quinto. Riesco più o meno a intuirlo andando a vedere la larghezza di questa barra rispetto al lato totale dell'intera area, però è un'operazione complicata. Per questo motivo una variante di diagrammi ad area è questa, dove sostanzialmente vado a rappresentare non più un'area intera, ma vado a rappresentare un'area costruita da tanti tasselli. In questo caso io posso andare semplicemente a contare che le caselle sono 10 per 10, quindi sostanzialmente ogni singola tessera in questo diagramma, waffle o grid, a seconda di come vogliamo chiamarlo, rappresenta circa l'1%, quindi il giallo rappresenta, lo facciamo facilmente, sono praticamente quasi due barre tranne uno, quindi 19, questo è un 2 e questo è quello che resta. Il problema è che spesso quando andiamo a sommare delle proporzioni che non sono nette, quindi hanno dei valori oltre la virgola, è possibile che tramite chi in seguito ha una serie di arrotondamenti il totale non faccia 100. Altra modalità di rappresentazione dei rapporti parte tutto è quella che abbiamo tramite i diagrammi a torta, che sono probabilmente uno del tipo di diagramma più diffuso. Ne abbiamo già discusso, tendenzialmente non è facile andare a individuare le dimensioni di ciascun elemento, è ovvio che questo grigio è leggermente più di 3 quarti, quindi un po' più del 75%, quello che resta ovviamente è un po' meno del 25%, quindi diciamo intorno al 20, lo intuiamo dall'apertura. Andare a dire che questo è un 2,5 e questo è un 19 è un po' più complicato se non avessimo i valori, ragione per cui in generale la raccomandazione è sempre utilizzare i diagrammi a torta andando a mettere dei valori vicini e in generale utilizzarli esclusivamente quando abbiamo a che fare con un numero limitato di categorie. In generale i diagrammi a torta hanno dei problemi per cui è preferibile non utilizzarli, soprattutto se vogliamo andare a fare una serie di confronti tra stessi livelli in diversi gruppi, in diverse categorie. ecco, se noi andiamo a prendere questi tre diagrammi a torta e andiamo a sostanzialmente vedere questi, sostanzialmente 5 diversi livelli che sono presenti in tutti e tre i diagrammi a torta, se io vi chiedo in questi tre diversi diagrammi qual è quello che ha la frequenza più alta? qual è quello che ha la frequenza più bassa? non è così banale mentre invece è ovvio andare a rispondere a questa domanda se io utilizzo un diagramma a barre è ovvio dove c'è quello più grande quindi in generale un diagramma a torta qui abbiamo già 5 categorie che quindi sono forse oltre il limite 4 tende a essere un limite ragionevole e soprattutto i valori sono molto simili tra di loro ecco, in questo caso un diagramma a torta è di difficile lettura non ci permette di fare quell'operazione quindi la prima operazione è quella di andare a fare la discriminazione e qui riusciamo a distinguere le diverse fette della nostra torta purché abbiamo a che fare con delle etichette messe vicino perché se iniziamo ad avere una leggenda separata questa operazione già non è banale il secondo passo è quello di andare a fare un confronto quindi andare a capire chi è più grande e chi è più piccolo ecco, quando i valori sono molto vicini capire chi è più grande e chi è più piccolo è estremamente difficile per cui se questa è l'operazione che vogliamo fare e se abbiamo valori molto prossimi tendenzialmente è meglio utilizzare un diagramma a barre è chiaro che se abbiamo le barre di fianco invece che sovrapposte l'idea del tutto è un po' meno chiara ed evidente però ci permette di fare un confronto molto più preciso una variante di diagrammi a torta sono quelli che vengono chiamati diagrammi DUNAT in cui sostanzialmente lascio un buco all'interno della torta e vado a rappresentare questa corona circolare per cui l'ampiezza della corona circolare sostanzialmente mi codifica il valore talvolta quando io devo andare a rappresentare dei diagrammi parte tutto voglio andare a rappresentare non un'unica categoria ma bensì la combinazione di due categorie per cui in questo caso devo avere un diagramma che mi permetta di andare a rappresentare tutto questo posso farlo con un diagramma di questo tipo in cui ad esempio una categoria che è in orizzontale in particolare il tipo di dispositivo desktop laptop e tablet e un altro tipo di categoria che sono qui in verticale che sono dati da i produttori le marche che producono quel tipo di dispositivo e qui l'asse mi da sostanzialmente il totale è ovvio che se andiamo a vedere le singole colonne quindi sui desktop abbiamo Lenovo e Dell sui laptop abbiamo Dell, Sony e HP qui abbiamo Samsung, iPad e HTC quindi è abbastanza facile leggere in verticale in orizzontale abbiamo invece un altro tipo di divisione che ci dà il numero totale di dispositivi quindi 8000, 21000 e 19000 per cui la dimensione totale di questi rettangoli sostanzialmente mi dà la proporzione di quel dispositivo per quel particolare produttore questo è il caso più complicato il caso più semplice invece è quando io ho un'unica categoria e mi interessa andare a vedere le frequenze dei diversi valori, dei diversi livelli questo lo posso fare ad esempio utilizzando quello che è un diagramma di Pareto dove ho le varie categorie ordinate a partire da quella più frequente verso quella meno frequente e sovrapposto nello stesso grafico ho un'altra curva che mi fa rappresentare la frequenza cumulativa quindi ovviamente il primo punto sarà in comune man mano che vado avanti inizio a sommare queste frequenze per cui ad esempio so che circa l'80% delle frequenze sta nelle categorie 1, 2, 3, 4 se voglio raggiungere il 90% di tutti i valori praticamente mi fermo alla categoria numero 6 le altre complessivamente ma lo vediamo qua contano per meno del 10% quindi sostanzialmente questi diagrammi parte tutto ci permettono di andare a rappresentare come sono distribuiti con che frequenza i valori all'interno di misure di tipo categorico noi ovviamente possiamo fare la stessa operazione con variabili di tipo continuo in questo caso parliamo di diagrammi che ci permettono di andare a rappresentare la distribuzione anche qui possiamo andare a rappresentare la distribuzione all'interno di un'unica categoria un unico insieme di valori oppure andare a confrontare le distribuzioni tra più diverse misure e categorie che cosa utilizziamo per fare questa operazione? utilizziamo spesso gli histogrammi che sono sostanzialmente diagrammi a barre verticali in cui le varie suddivisioni sono degli intervalli e l'enfasi in questo caso è dato sul numero di occorrenze usiamo dei poligoni di frequenza che sostanzialmente sono derivati dagli histogrammi ma invece di rappresentare delle barre ci rappresentano dei punti collegati dalle linee dove i punti sostanzialmente non sono evidenziati ma abbiamo una spezzata in questo caso abbiamo un'enfasi su quella che è la forma complessiva della nostra distribuzione mentre su un histogramma vediamo più le occorrenze degli singoli intervalli e abbiamo anche altre tecniche ad esempio i boxplot o varianti gli histogrammi li abbiamo imparati a utilizzare sin dalle scuole elementari abbiamo una serie di intervalli numerici e qui rappresentiamo quella che è la frequenza attenzione quando utilizzate gli histogrammi che gli intervalli, il numero ma anche la loro dimensione è molto importante perché vi può far cambiare significativamente quello che è la forma di un histogramma cerchiamo di capire come funziona come viene costruito un histogramma sostanzialmente un histogramma prevede di andare a suddividere tutto l'intervallo dei possibili valori in una serie di piccoli sottointervalli che di solito vengono chiamati bin tutti questi piccoli bin quindi vanno da 70-72 ad esempio vengono utilizzati per andare a contare quante volte un valore nell'insieme di dati che stiamo analizzando cade in quel bin e poi sostanzialmente il nostro diagramma di frequenza istogramma riporta l'altezza pari alla frequenza di quei valori del numero di valori che cade in quel bin quindi il numero l'ampiezza e anche l'allineamento dei bin è molto importante questo diagramma è sostanzialmente stato fatto con 30 bin quindi l'intervallo è stato diviso in 30 sotto piccoli intervalli però se noi andiamo a cambiare questo numero di bin ad esempio lo riduciamo a 13 ecco che la nostra forma cambia completamente cambia decisamente il livello di dettaglio quindi abbiamo meno della metà dei bin quindi avremo degli intervalli più larghi e quindi avremo una descrizione meno dettagliata della nostra distribuzione però tenete conto che anche variando di un solo bin passando da 13 ad esempio a 14 ecco che ottengo una distribuzione che è abbastanza diversa quindi è importante andare a scegliere la dimensione, il numero di bin il loro allineamento in modo da avere quella che è una rappresentazione fedele esiste un modo standard? solitamente 30 è un numero ragionevole di intervalli ma dipende molto da quello che voi volete andare a mostrare come voi sapete essere fatta la vostra distribuzione di dati qui c'è veramente un dettaglio che è lasciato in mano a chi progetta il diagramma una variante dell'istogramma è quello che abbiamo detto essere un poligono di frequenza dove sostanzialmente andiamo a disegnare quella che è una spezzata e ogni punto che separa un tratto dall'altro sostanzialmente riporta la frequenza in un particolare intervallo anche qui abbiamo dei bin quindi anche qui vale il discorso che abbiamo fatto un attimo fa per l'istogramma ovviamente qui abbiamo un dettaglio molto fine più aumenta il numero di bin più abbiamo la descrizione molto dettagliata di quella che è la distribuzione talvolta però a noi non interessa il dettaglio a noi basta una rappresentazione molto sommaria di quella che è la distribuzione e questo è ciò che viene fatto tramite un diagramma che si chiama boxplot che cos'è un boxplot? è un diagramma che sostanzialmente sintetizza la distribuzione utilizzando per l'appunto questo rettangolo il box con due buffi che cosa rappresentano questi valori? beh sostanzialmente l'estremo di un buffo rappresenta il valore massimo l'altro estremo il valore minimo e poi l'estremo superiore della scatola rappresenta il terzo l'estremo inferiore rappresenta il primo quartile e in mezzo abbiamo la mediana che è anche chiamato il secondo quartile oltre a questo c'è un meccanismo che permette di andare a identificare quelli che sono gli outlier ovvero i valori che sono molto all'esterno dell'intervallo ragionevole cosa succede? come viene calcolato un outlier? allora sostanzialmente esistono vari meccanismi quello che viene utilizzato molto più spesso è di andare a prendere la mediana la distanza interquartile e poi andare a vedere tutti i valori che distano dal quartile inferiore o superiore più di 3 volte o 5 volte a seconda di quanto vogliamo essere stringenti o permissivi in termini di outlier quindi questo valore qui è decisamente oltre 3 volte la distanza interquartile da questo quartile dal primo quartile e quindi è stato classificato come outlier quindi il valore minimo e il valore massimo di dove vengono calcolati una volta esclusi gli outlier quindi in questo modo noi abbiamo una sintesi molto semplice di dove sta il grosso dei valori perché metà dei valori sostanzialmente sta in questo intervallo quindi tra 75 e 80 un quarto dei valori è sparso tra 80 e 95 e un altro quarto dei valori è sparso tra 75 e 60 ovviamente questa è una descrizione molto molto compatta che può essere utile per avere una visione d'insieme se vogliamo avere una visione d'insieme ma un po' più dettagliata quello che di solito viene fatto è di andare a utilizzare un altro tipo di diagramma che è quello che si chiama un violin plot nel violin plot sostanzialmente abbiamo come nel caso del nostro box plot il valore massimo e il valore minimo ma poi all'interno abbiamo quello che è un poligono di frequenza sostanzialmente specchiato ovviamente essendo disegnato così piccolo non abbiamo la possibilità di andare a vedere tanti dettagli quanto un poligono di frequenza che rimpe un grafico però comunque ci dà un'idea di come sono messi i nostri valori volendo possiamo anche andare a combinare un violin più un box plot andando a riportare i dati e quindi dettagliarli molto meglio quindi abbiamo sostanzialmente la possibilità di andare a vedere dove sta il grosso di una distribuzione quindi qui vediamo che c'è il primo e il terzo quartile e poi andare a vedere tutti gli altri valori come faccio a combinare queste diverse distribuzioni per andare a rappresentare quelle che sono distribuzioni multiple in generale un istogramma non è molto facile perché se io inizio a mettere due istogrammi inframezzati è molto difficile andare a identificare i valori e quindi a fare un confronto accurato quello che posso fare al massimo è andare a utilizzare una coppia di diagrammi a barre quindi di istogrammi divergenti in questo modo io riesco a andare a apprezzare una distribuzione e l'altra messe una fianco all'altra e quindi posso andare a vedere ad esempio che qui nell'intervallo tra 40 e 44 anni ci sono meno donne e tendenzialmente ci sono più uomini quindi ho una serie di distribuzioni e quindi posso confrontarle ovviamente questo tipo di diagramma è utile se io ho due distribuzioni se ne ho di più non posso affiancarle ovvero posso metterne tante uno di fianco all'altro ma sono difficili da osservare per quanto riguarda il poligono di frequenza che spesso viene riportato come un poligono pieno colorato se io lo uso quando ho più distribuzioni tendenzialmente quello che faccio è di andare a rappresentare queste distribuzioni come semplicemente il poligono senza l'area disegnata sotto o almeno se la disegno devo andare a dare un certo grado di trasparenza in modo che si possa vedere come si comportano le distribuzioni sottostanti un modo molto più standard e utilizzato per andare a confrontare più distribuzioni è quello di andare a mettere tanti boxplot effettivamente i boxplot sono stati pensati per poter fare un confronto tra distribuzioni e quindi vediamo molto bene come tre diverse distribuzioni qui una frequenza elettorale in vari orari possono essere rappresentate quindi vediamo come questa distribuzione di valori è molto più bassa questa è incentrata intorno al 25, questa è intorno al 70 e questa chiaramente intorno al 75 quindi vediamo dove sta il grosso dei valori e vediamo quanto sono sparse e sovrapposte quindi queste due distribuzioni sono evidentemente abbastanza sovrapposte mentre invece la prima è abbastanza distinta e molto separata nettamente dalle altre due ovviamente possiamo fare la stessa cosa con dei violin plot un vantaggio di avere tanti boxplot è che io li posso utilizzare per andare a rappresentare molte categorie per cui ad esempio se io ho diverse categorie ad esempio questo è un grafico che riporta il risultato di un sondaggio in cui sono riportati ovviamente per i due generi maschi e femmine quello che è il reddito e inoltre c'è una distinzione in termini del tipo di educazione che si è ricevuto quindi nessuna, quindi quella di base scuola, un'educazione vocational oppure un degree nel senso una formazione di scuola, di università scusate iniziamo a vedere ovviamente una tendenza che va verso l'alto quindi salendo il grado di istruzione sale anche quello che è il reddito ma vediamo anche quello che purtroppo è un fatto che è abbastanza frequente ovvero il fatto che la retribuzione delle donne è più bassa di quella degli uomini per chi segue questo corso, quindi probabilmente studenti in ingegneria se andate a vedere le ultime statistiche questo gap è decisamente più ridotto e se andiamo a vedere lo storico per fortuna si sta riducendo molto quindi tendenzialmente il gap che noi abbiamo effettivamente nel mercato dell'errore tra uomini e donne soprattutto per la professione di ingegneria è un qualcosa che è ridotto e si sta ancora ulteriormente riducendo stesso tipo di diagramma, stesso tipo di dati noi lo possiamo rappresentare ad esempio andando a utilizzare un violin plot che ci dà un dettaglio ancora più fine di quello che è la rappresentazione ovviamente molto spesso io non sono interessato a andare a rappresentare tutta la forma della mia distribuzione a me basta semplicemente andare a dire dov'è il valore medio è chiaro che però solo il valore medio mi dà un'informazione che è decisamente limitata e non mi permette di apprezzare come io posso andare a descrivere alcuni aspetti molto di dettaglio scusate se noi eliminiamo il dettaglio che abbiamo qui nel violin plot piuttosto che nel box plot che cosa abbiamo? se rappresentiamo esclusivamente la media di questi diversi gruppi di valori quello che otteniamo è questo sì abbiamo una certa informazione ma molto meno su quanto i valori sono più ampi una via di mezzo quindi non dare semplicemente la media o la mediana se preferiamo è quello di andare ad esempio a rappresentare quelli che sono degli intervalli in certezza normalmente che cosa faccio? utilizzando delle tecniche statistiche sono in grado di andare a capire dove con più probabilità si trovano i valori dove sono localizzati la maggioranza dei valori quindi vado a rappresentare l'intervallo come una coppia spesso di trattini verso l'alto e verso il basso che mi dicono quanto sostanzialmente si estende la maggior parte dei lavori dei valori che fanno parte di quel gruppo di dati attenzione che ci sono diverse tecniche per andare a rappresentare gli intervalli di di confidenza per cui ad esempio una tecnica è quella di andare a rappresentare con dei punti o in questo caso con delle barre questo trattino e quindi mi dà l'intervallo di incertezza un altro è quello di andare ad esempio a rappresentare con dei valori sfumati che invece mi danno dove è più probabile che si trovi il valore l'articolo che ho citato qua riporta un esperimento in cui la precisione di quanto veniva percepita l'ampiezza dell'intervallo di incertezza era sostanzialmente più alta in questo secondo caso quindi con la sommatura purtroppo è difficile andare a trovare un pacchetto software che sia in grado di rappresentare gli intervalli di incertezza in quel modo un altro tipo di rappresentazione che noi possiamo fare è quello di andare a rappresentare una distribuzione di valori e frequenze ma seguendo quella che è una scala molto ben definita molto spesso quando noi andiamo a rispondere ai questionari alcune domande sono fatte andando a dare una frase e andando a chiedere a noi qual è il livello di accordo o disaccordo che proviamo nei confronti di quella particolare affermazione le risposte ovviamente sono su una scala molto limitata quindi da decisamente no a decisamente sì poi possono essere più o meno ampie queste variazioni ma sostanzialmente questa è l'idea quindi abbiamo un estremo negativo un estremo positivo e valori intermedi come facciamo a rappresentare questo? beh, una tecnica che possiamo utilizzare è quella di andare a utilizzare un diagramma barre impilato ma non semplicemente a partire da zero ma bensì utilizzando delle barre divergenti per andare a rappresentare quelli che sono i valori positivi da un lato e quelli che sono i valori negativi dall'altro in questo caso il grosso vantaggio è che noi andiamo a leggere su un estremo delle barre complessivamente quanto è il gradimento quindi quanto è il numero di pareri sostanzialmente positivi questo è preso dal questionario a cui rispondono gli studenti dopo la fine degli insegnamenti quindi le varie domande sono su una scala di quattro livelli quindi decisamente no più no che sì più sì che no e decisamente sì quindi vediamo come alcune risposte sono decisamente positive l'estremo negativo invece ci permette di andare a identificare quali sono i casi critici per cui ad esempio questo è un caso abbastanza critico questi, le conoscenze preliminari piuttosto che il carico di lavoro sono degli altri aspetti che possono essere considerati più negativi altri sono chiaramente avendo un valore decisamente positivo meno importanti quindi in questo modo abbiamo la possibilità di andare a rappresentare un particolare tipo di insiemi di valori che sono chiaramente ordinali su una scala fatta in maniera divergente in questo modo andando a evidenziare risposte positive risposte negative e andando a rappresentare anche quello che è la distribuzione complessiva sui quattro livelli o più livelli a seconda del numero di risposte che sono possibili un altro tipo di relazioni che noi possiamo andare a rappresentare sono le relazioni che prendono dei valori quantitativi e cercano di metterli in relazione tra di loro un caso particolare è quando noi abbiamo uno di questi valori quantitativi che rappresenta un istante temporale per cui abbiamo quelle che si chiamano delle serie temporali in cui vogliamo andare a rappresentare il cambiamento l'incremento, il decremento, la fluttuazione crescita, decrescita, l'andamento generale e quindi possiamo andare a identificare diversi aspetti in generale quando andiamo a rappresentare una serie temporale la convenzione più comune è quella di far crescere il tempo da sinistra verso destra e questa è una convenzione culturale abbastanza comune li possiamo utilizzare in diversi modi possiamo andare a utilizzare delle linee linee più punti oppure delle barre quali sono vantaggi e svantaggi? allora la rappresentazione più comune è quella che utilizza delle linee eventualmente con i punti la presenza dei punti che effetto ha? ha l'effetto sostanzialmente di andare a enfatizzare alcuni valori specifici ovviamente noi possiamo utilizzare i punti se il numero di campioni nel tempo è abbastanza limitato se abbiamo tantissimi campioni i punti a quel punto oscurano la linea e quindi tendenzialmente è preferibile utilizzare semplicemente una linea sempre che i valori non siano troppo fluttuanti e allora la scelta tra utilizzare linee o punti è abbastanza difficile quindi deve essere valutata caso per caso è ovvio che in alternativa ai punti io potrei andare a utilizzare delle barre il problema è che le barre devono avere una base zero quindi questo asse parte da zero quindi non riesco a apprezzare bene le differenze inoltre quando utilizzo delle barre la mia attenzione si focalizza sui singoli valori più che sull'andamento globale confrontate questa visione con quella del diagramma precedente qui io vedo chiaramente l'andamento leggermente in calo e poi una crescita significativa con un piccolo calo qua e qui vedo il piccolo calo qua dovuto anche al differente intervallo che ho sull'asse ma soprattutto vedo i singoli punti non riesco a apprezzare bene l'andamento quando io ho tanti andamenti nel tempo soprattutto se ho una questione di frequenze quello che posso utilizzare è anche uno stream graph ovvero un grafo che rappresenta le frequenze di diverse categorie nel tempo che sono rappresentate una sopra l'altra e mi permettono di andare a vedere di andare a apprezzare la frequenza globale quindi il numero di occorrenze globali e il numero di occorrenze di ogni singola categoria in generale quando abbiamo a che fare con più valori quantitativi quello che faccio è di andare a rappresentare la correlazione e quindi quello che di solito viene fatto in questo caso è quello di andare a utilizzare quello che si chiama uno scatter plot ovvero un plot in cui io vado a spargere i punti in funzione delle loro posizioni rispetto ai due assi x e y a questo punto alcune raccomandazioni quando io devo andare a fare questo tipo di diagrammi che sono probabilmente quelli a cui siamo abituati più comunemente perché in ambito scientifico e matematico il piano cartesiano è utilizzato tantissimo allora i punti sostanzialmente devono essere abbastanza grandi da essere notabili se sono troppo piccoli non riesco a identificarli quindi non riesco a seguirli se rappresentano categorie diverse devono avere delle forme chiaramente diverse e in generale devo andare a bilanciare opportunamente le dimensioni dei punti con le dimensioni del grafico complessivo un problema che io ho molto spesso soprattutto se ho tanti punti è che sono difficili da identificare per cui se i punti non sono tantissimi sono tanti ma non tantissimi io posso andare a utilizzare una etichettatura per andare a identificare le categorie dei singoli punti quindi qui ad esempio c'è la relazione tra l'affluenza elettorale nel 2013 e l'affluenza elettorale nel 2018 con qui la linea tratteggiata che rappresenta la linea con pendenza 1 quindi il caso in cui l'affluenza sia esattamente la stessa nei due casi quindi vediamo che in un paio di casi è molto simile nella maggioranza dei casi tranne alcune eccezioni abbiamo un'affluenza maggiore quindi io posso utilizzare linee di riferimento ad esempio questa che è quella con pendenza 1 per capire dove peggiora dove migliora e soprattutto mi interessa andare a vedere i singoli valori che cosa sono e quindi posso utilizzare delle etichette ovviamente questo è possibile se io ho un numero limitato di punti altrimenti le etichette diventano sovrapposte l'una all'altra quando io ho tanti punti ho anche un altro tipo di problema che è quello dell'overplotting ovvero il fatto che ho dei punti che sono potenzialmente sovrapposti e quindi è difficile andare a distinguere e soprattutto non riesco a capire quanti punti sono concentrati in una particolare area come faccio a risolvere questo problema? allora vediamo un esempio molto semplice ho i dati dell'esempio di prima sull'income e il tipo di educazione ovviamente io ho tantissimi punti sovrapposti in regioni molto limitate ovviamente qui io non riesco a capire quanti punti sono e dove sono esattamente come faccio a risolvere il problema? beh, una possibile soluzione è quella di usare dei punti molto più piccoli quindi io riesco ad andare a distinguerli l'uno dall'altro riesco a vedere dove sono più densi e dove sono meno densi questo però funziona fino a un certo punto perché non posso ridurre troppo i punti altrimenti non riesco a vederli assolutamente quindi un'altra tecnica che posso utilizzare è di avere invece di punti e forme piene delle forme che hanno semplicemente il contorno per cui in questo caso i punti sovrapposti riesco comunque a notarli meglio e quindi vedo dove ho densità più alte e dove ho densità più basse ovviamente questo funziona fino a un certo punto ma quando ho tanti punti comunque non mi permette di apprezzare la densità dei punti un'altra tecnica che posso utilizzare è quella della trasparenza quindi invece di utilizzare semplicemente il contorno dei miei punti o qualunque altra forma utilizzo vado a rappresentare delle forme piene ma con un certo livello di trasparenza per cui sostanzialmente quando ho i punti isolati questi risultano abbastanza trasparenti chiari dove ho una densità più elevata di punti o dei colori più scuri dove ho la densità più bassa di punti o dei colori leggermente più chiari fino fino al caso del punto isolato decisamente più chiaro questo è utile quando io ho tantissimi punti molto densi e quindi riesco a vedere dove i colori sono più intensi e quindi dove ho una densità più elevata di punti un'altra tecnica che posso fare se soprattutto non ho la necessità di avere una posizione precisa è quella che si chiama la tecnica del jittering ovvero posso andare ad aggiungere un po' di rumore quindi andare a spostare i punti da dove dovrebbero comparire effettivamente in modo da evitare che questi si sovrappongano di solito quello che viene fatto è di aggiungere un valore casuale a ogni singolo punto ecco nel caso specifico io qui ho utilizzato il jittering andando a spostare i punti rispetto alla verticale in questo caso invece la posizione verticale quindi lungo questo asse è rispettata perfettamente quindi quando io ho dei gruppi vari io posso andare a rappresentarli in questo modo per andare a rappresentare se vogliamo una sorta di distribuzione in effetti è abbastanza frequente vedere una tecnica di questo tipo in cui io ho i punti con il rumore quindi me li sposta rispetto alla loro posizione della categoria e mostrare questo tipo di rappresentazione sovrapposta ad esempio a un box plot oppure a un violin plot se io però non sono interessato ai singoli punti ma più all'andamento generale quello che faccio è di andare a utilizzare una combinazione di punti e linee oppure esclusivamente delle linee ricordatevi che la pendenza è un qualcosa che io non riesco ad apprezzare tanto bene però se voglio avere l'idea generale di come è l'andamento quindi se è in crescita se è altalenante o altro probabilmente è molto meglio utilizzare semplicemente delle linee invece di utilizzare dei punti inoltre le linee possono essere utilizzate per andare a rappresentare quella che è una regressione che mi permette ovviamente di rappresentare un modello matematico di quelli che sono i miei dati infine se io ho due categorie quello che posso fare è di andare a utilizzare delle coppie di diagrammi a barre divergenti che quindi riescono a darmi un'idea di come i valori sono corredati tra di loro e soprattutto se la tendenza di uno se io rappresento uno dei due diagrammi ordinato come l'altro segue oppure evidenziano una serie di eccezioni a questo punto è opportuno fare una puntualizzazione su un aspetto che noi abbiamo sostanzialmente tralasciato o comunque lasciato implicito ovvero come vado a codificare gli aspetti che riguardano le categorie ad esempio in questo diagramma noi abbiamo due categorie che sono rappresentate tramite due colori diversi come possiamo andare a fare questa codifica combinata con i grafici che abbiamo visto finora vi ricordo che quando abbiamo a che fare con le categorie gli attributi grafici che posso utilizzare visuali che posso utilizzare per andare a codificarle sono quelli che vediamo illustrati qua dove alcuni le posizioni la dimensione e l'intensità di colore in parte la saturazione possono essere utilizzati per andare a rappresentare delle misure che sono di tipo ordinale cosa vuol dire dire sostanzialmente noi possiamo utilizzare la posizione quindi la posizione lunga un asse mi permette di andare a codificare le diverse categorie possiamo andare a utilizzare il colore quindi diversi colori rappresentano diverse categorie o gruppi di misure possiamo andare a utilizzare ad esempio la dimensione la dimensione mi permette di andare a rappresentare una categoria che è ordinale io non riesco ovviamente l'abbiamo visto più volte a rappresentare delle diverse dimensioni che abbiano un rapporto facilmente leggibile posso utilizzare la forma di punti lo stile delle linee quindi se utilizzo le linee invece di punti posso usare lo stile ad esempio continuo tratteggiata se ho delle forme pieni posso utilizzare ad esempio lo stile di riempimento ecco in generale quando voi avete a che fare con diagrammi diciamo vecchio stile talvolta capita di avere a che fare con diagrammi che utilizzano delle linee obliche da una parte dall'altra orizzontali o verticali ecco purtroppo quando noi andiamo a osservare queste linee tendiamo a percepire un effetto di movimento che non è naturale quindi in generale quando voi dovete utilizzare più colori che soprattutto non possono essere resi perché magari pensate di dover andare a stampare ecco tendenzialmente è preferibile evitare una rappresentazione di questo tipo e andare piuttosto a utilizzare dei livelli di grigio ad esempio come questo molto spesso capita di avere a che fare con più variabili da mostrare e allora è comodo andare a tradurre una di queste variabili da una variabile quantitativa in una discreta andando a fare quella che di solito viene chiamata una quantizzazione ovvero vado a identificare una serie di intervalli i bin che ad esempio posso avere utilizzato per andare a fare un histogramma e assegno a ogni bin a ogni intervallo un valore diverso a questo punto questi sono abbiamo ottenuto quella che è una variabile ordinale un uso di questa tecnica è in quello che noi chiamiamo gli heatmap perché prendono spunto dalle mappe di calore che vengono fatte andando a vedere il livello di radiazione vediamo questo esempio allora questo esempio riporta sostanzialmente sull'asse X gli anni sull'asse Y rappresenta invece gli stati degli Stati Uniti d'America e il valore che è stato quantizzato tramite una serie di livelli di colore è il numero di casi di morbillo measles in più abbiamo qui un riferimento questa linea nera che corrisponde all'anno in cui è stato introdotto il vaccino la cosa che è immediata osservare è come dopo l'introduzione del vaccino nel giro di pochi anni il numero di casi si è ridotto tantissimo con buona pace dei Novax qual è il problema di questa quantizzazione il problema di questa quantizzazione è sostanzialmente come è stato fatto il mapping tra i valori e i colori ad esempio qui possiamo vedere che io passo da zero a mille casi passando tra una serie di colori dall'azzurro al verde al giallo all'arancione soprattutto i valori molto alti hanno praticamente dei colori che sono molto simili tra di loro inoltre se io guardo questa mappa capisco che il verde viene dopo l'azzurro e il giallo viene dopo il verde ma se ignoro questa barra questa leggenda che trovo qua è difficile andare a capire se il verde viene prima o dopo il giallo inoltre vedete che qui la transizione dal giallo all'arancione è molto continua mentre invece la transizione dal verde al giallo è molto netta quindi da un punto di vista percettivo io ho alcuni valori che sono che in base a una variazione molto piccola mi danno una percezione molto diversa ad esempio dal giallo al verde e altri che per una uguale variazione o addirittura superiori mi danno una percezione che è sostanzialmente continua e meno immediata oltre al fatto che questo tipo di colori danno dei problemi di percezione seria a chi ha ad esempio problemi di cecità al colore per questo motivo molto spesso è preferibile invece di utilizzare una palette diciamo di tipo arcobaleno andare a utilizzare una palette che usi un'unica tinta e sfrutti la luminosità e la saturazione per andare a codificare i colori ecco questo fa esattamente la stessa operazione di prima l'unica differenza è che sostanzialmente i colori sono tutte variazioni dell'arancio e è chiaro dove abbiamo tantissimi casi dove ne abbiamo di meno e dove praticamente non abbiamo più casi in questo caso non ho problemi di capire quale colore viene prima quale colore viene dopo perché i colori più intensi rappresentano valori più alti i colori più teni rappresentano valori più bassi e soprattutto non ho problemi per chi ha per chi soffre di cecità al colore perché uso un'unica variante anche chi non percepisce correttamente questo colore comunque lo percepirà alterato ma manterrà comunque una percezione corretta in termini di saturazione e di luminosità quindi questo è un modo di andare a rappresentare più variabili combinate dove una variabile non è più rappresentata in maniera continua come ad esempio può essere una lunghezza o una posizione o un'asse ma bensì è stata quantizzata ed è stata riportata in termini di livelli di colore in cui io posso percepire esclusivamente l'ordine ma non riesco a fare un rapporto di quantità per cui ad esempio è difficile andare a capire qual è il rapporto tra questa intensità di arancione e quest'altra riesco a percepire l'ordine ma non la relativa dimensione con questo abbiamo sostanzialmente esaurito la nostra veloce e incompleta panoramica su come andare a rappresentare diversi tipi di relazioni visuali in termini di grafi e tipi di grafici il prossimo elemento riguarderà un qualcosa che abbiamo già visto ma su cui non abbiamo focalizzato l'attenzione ovvero gli elementi di supporto gli assi le leggende i titoli eccetera che saranno per l'appunto oggetto di quella che è la prossima lezione di grafici